Ines, ma quanti anni c'aveva? Ma che ne so, io già ci vedo poco. Poteva accene 30, come poteva accene 60? 30, 60? Non capisci più cazzo? Era un uomo, una donna. Ma vedi che devi stare dentro casa, le faccio interna veramente... Che piedi lo psicofarma, che prendi? Lo psicofarma, qual'è? Il dormotri. Ah, il dormotri? Così ti accoppa, non ti svegli più, capito? Ok, fai la finita, hai di fregnacce! Si, c'è sempre il fregnacce quello. E poi mamma, dormo in l'opopia già. Qua una cosa dobbiamo fare, dobbiamo andare alla polizia o dobbiamo denunciare? Ma ti volevo dire io prima, andiamo dalla polizia e faremo le cose normali, la bella denuncia. Ma no, ma già la polizia c'è sul caso, capito? Perché la polizia ti dà il doppio, tu vai lì con questo qui, ti dai il doppio. Ma ma io c'è? La guardia di finanza è il triplo. Chiamiamo la polizia, facciamo vedere che al polizio ci sta pure Cesare, 12 anni spara, poi facciamo passare al garage, ci stanno tutte le armi rubate, la roba rubata, facciamo chiamare la polizia, eh? Ridardata! Per questo olocio del cazzo! Ma chi ci li dà i soldi di questo? Nessuno ci li dà! E state pezzinte, no? Partiamo.